Il club magico italiano, augurandovi un buon divertimento, ha il piacere di mostrarvi la sintesi dei filmati della 127esima riunione nazionale. Presenta Rudy! Un caloroso abbraccio a tutti voi, amici del club magico italiano. Essere presentati da ROX in questo teatro rituale mi riporta nel magico congresso di Avano, dove quest'anno si è svolta la 127esima riunione nazionale. Per chi era presente, ma soprattutto per coloro che non sanno che cosa si sono persi, oggi vi mostrerò i filmati della manifestazione. Piano, piano, fermi tutti, non erano questi gli accordi, fermi tutti! Zio, ma quali accordi? Non è così, lui che ci fa qua. Chi è? Chi sei? Io sono Rudy. Rudy chi? Rudy miserocchi. Ah, mi dispiace. Di che? È miserabile. No, zio, non è miserabile, lui si chiama Rudy, poi ripetetelo con calma, è un po' sordo. Rudy? Rudy miserocchi. Sono anziano, non sono stucido, ok? Che ci fai qua? Zio, hai capito adesso come si chiama? Sì. Rudy miserocchi. E chi se ne frega? No, zio, non puoi dire questo. Schioda di qua. Come schioda di qua? Sì, perché tocca a me. Eh, tocca a te cosa? Presentare i filmati di Agano. No, zio, chi te l'ha detto? Me l'ha promesso. Promesso chi? Il presidente. Zio. Eh, Silvio. No, idiota. Dante. Ma scusa, poi io non ti conosco nemmeno, ma chi sei? Ah, scusa Rudy, lui è il mio zio. Sì, zio Tore. Zio Tore. Sì. E tu vorresti presentare al posto mio? Ma per piacere. Ma per piacere. Perché no? Se non te ne vai con le tue vangue, userò questa. Ma se non sei nemmeno un mago, poi la bacchetta magica. Ma chi te l'ha data? Sì, è vero, sì. Chi te l'ha data? Ma per piacere. L'ha data il mio amico? Quale? Quale amico? Gianni Loria. Ma Gianni Loria, figuriamoci se Gianni Loria ti ha dato questa bacchetta. Funziona. Sì che funziona. Sì, figuriamoci. Non ci credo. Ah no? No, tu ci credi. No, ma per piacere. Tu mi vorresti far sparire con questa bacchetta. Sì. Ma per piacere. Ok. Non ci crede. No. Vai, vai. Vediamo, vediamo se è vero. Uno, due, tre. Zio, che figlio ha fatto? Funziona, funziona. Zio, adesso che hai fatto sparire Rudy? Presenterò io. Eh dai, allora sei pronto? Sì. Vai, inizia col primo filmato. Signore e signori, ecco voi. Ecco voi. Non me la ricordo. No, come non te lo ricordi? Non me la ricordo. Dai. Improvvisa, improvvisa. Ci stanno guardando, dai. Ok. Fai una prova al microfono. Sascha, Sascha, Sascha. Ma con che c'entra Sascha? E se non funziona? È calca di Rox. No, scusa Rox. Dai zio, ci sono i filmati di? Filmati di? Non me la ricordo. Ok, te lo dico in un orecchio. Ok. Ah, vai. E finnati di il gala dinner. Vai, ci guardiamoli insieme, amici. Buona tera a tutti. Benvenuti alla 127esima edizione del nostro congresso internazionale Diablo Nelme. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Zio? Eh? Siamo in onda. Eh? Dai! Oh, ti sei divertito? Wow, fantastico! Ora che c'è? Come ora che c'è? Perché? Sei tu il presentatore. Vai, tocca a te. Dai, continua tu. Dai, allora, mi tocca presentare la serata con i video di Close Up. Che c'è? Close Up? Sì. Cos'è Close Up? Il Close Up. Clac, clac. No! Close, close, up, up. Ok. Che diagnone è? Sono praticamente giochi di prestigio fatti a un palmo di naso. Ah, ok. Ti va di guardarli insieme a me? Sì. Insieme a tutti gli amici? Ok. Vai! Vai regia! Vai regia, vai. Guardiamoli insieme. Per il vostro applauso, Patrick Linnan! Come with this remote control. Yes. Simple, hit the A button and all cards, all aces will turn themselves over as expected. Yes. You might ask how does this work? I will explain. Somebody told me. Yeah. But it just goes in and the cards are back as new. Real magic. And in this manner, grazie. Signore, signori, make you run! Hello. When I was about five years old, my daddy took a coin and put it in his hand and rubbed it. I'm going to clap. Let him hit me, raise it, baby, stick. Oh, 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 oh. I'll get him high, chase. She's got me like nobody. Carry my, carry my. No, he can't read a mic. Bl gym, experience it with a happy girl. The feminine shape. Sometimes, God gets it. That a side adalah, love the Korean man. Made on iv swap. This woman was sick and she was sick and something. But I can never do that. Don't come back and pray and name this man. But I have sex. If you still be sick and you could use it by yourself. Grazie a tutti. 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 Signore e signori. Sì, però loro non lo vedono, quindi adesso lei prende la mano e stringe forte il cactus, ok? Ok? Grazie a tutti. Allora, tre effetti in meno di un secondo. Uno, due, tre, hop, fatto. No. Visto? No. Primo effetto. Tip pocket. Questo è il tuo orologio. Ah no, cacchio, questo è il mio orologio. Perfetto. Perfetto. Infatti arrivo. E questa moneta è passata. Vuoi vedere questa moneta passare visibilmente? Perfetto. 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 E se noi andiamo a vedere... l'angole. Perfetto. Grazie mille a tutti e ciao a tutti, grazie mille e buonanotte. Per essere il campione Europa 2011, Vittorio Belloni. Bravo Vittorio, davvero divertente, visto zio? Sì, davvero a sorte. Un vero one man show. Sì, un one man shock. No zio, non one man shock. Ah no, no, one man shock, cioè una persona che riesce a intrattenere un pubblico tutto da solo. Ah, come è? Zio, tu cosa sai fare? So cantare. Ah sì? Sì. E allora zio, sei pronto? Ok, quando vuoi? When the moon eats your eye like a big pizza pie, that's amore, that's amore. When the world seems to share life to have to match wine, that's amore, that's amore. Bell to ring, tinga tinga ling, tinga tinga ling, and you sing vita bella, tua sorella. No, basta ragazzi, è stato lui. No, senti, forse è meglio presentare i filmati dei concorsi. Ok. Ci siamo anche noi, ti ricordi? Oh no, non quello ricordare. Ma perché è stata una bella esperienza. No, da rienticare. No, non da dimenticare. Ci siamo divertiti, quindi vai con i filmati. Vai regia! Signori, ecco a voi Martino. No, no, d'intriloco. Oh sì, che giamine è? Io d'intriloco è una persona. Come te? Sì. Io mi rischi a chi? No, che riesce a ispiri. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti All'asso nero di picche All'asso di cuori All'asso nero di fiori E all'asso di quadri Grazie E il bello di tutto Da qui a qua Sette di picche Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Zio, ti stai dando un po' troppe aria No, ora no E quando? Ora sì Bene amici, dopo questa bella uscita elegante di mio zio Tore Grazie Mandiamo in onda e guardiamoci i filmati del Gala Show Benvenuti signori, benvenuti signori, benvenuti signori alla 127esima edizione Quindi voglio bene, quindi voglio bene, quindi voglio bene, quindi voglio bene cari, quindi voglio bene cari, quindi voglio bene cari, internazionale, annuale, del club bellico italiano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti